e quindi ci darà ancora aggiornamenti più attuali. Intanto doverò la parola a Nico. Buonasera a tutti. Sirisa ha una coalizione di 11 componenti, parte da un 3%, entra dentro i movimenti, i movimenti di piazza sintagma, i movimenti dei disoccupati, i movimenti di donne licenziate, di una crisi umanitaria, dopo il memorandum fatto da Giorgos Papandreou, il 2010, che come è stato dimostrato era un memorandum non sostenibile, un memorandum fatto apposta, un memorandum per portare proprio a una crisi umanitaria alla Grecia. Entra dentro questi movimenti e riesce, faccio le cose molto brevemente, il 12, di avere una percentuale altissima, non vince le elezioni, teniamo in considerazione che il partito che ha vinto le elezioni, il partito di nuova democrazia, era contro il memorandum in quel periodo. e le perde per pochissimo. La gente vede la prospettiva di Sirisa, la nuova democrazia firma il secondo memorandum subito dopo, e Sirisa comincia a fare la sua contraposizione all'interno del Parlamento, e arriviamo al programma di Salonico. Il programma di Salonico è dove Sirisa è praticamente un programma di governo. Il programma di Salonico non è un programma radicale, non è un programma socialista, è un programma normalissimo, dove addirittura Sirisa alcune posizioni precedentemente avute da loro le mette da parte, è una fondamentale che aveva, nessun sacrificio per l'euro, e l'euro non è un feticio. Lo cambia con una contrattazione onesta che deve fare quando va su, e che strapperà il memorandum il 26 di gennaio. Il 26 di gennaio vince Sirisa, vi ricordate tutti la gioia che ha dato a tutti noi, i greci, e a tutta la sinistra, e non solo la sinistra, a tutta la gente in Europa, la gente normale, la gente comune. Io sono un ristoratore, dal mio ristorante passavano decine di persone, tutti i giorni, di congratularsi di questo. Sirisa vince, e mi ricordo ancora, ce l'ho davanti ai miei occhi, Cipras sul palco, mentre sotto c'era il gruppo Calimera, e Cipras che diceva, strappiamo il memorandum. Non l'ha fatto. C'era Podemos, c'erano tanti, non l'ha fatto purtroppo. Inizia la contrattazione con Varoufakis. Faccio una parentesi. Il 2012 è stata costruita dentro Sirisa una commissione di 20 economisti per elaborare il piano B. Non l'hanno mai fatto. Scrivevano i discorsi di Dragassakis e di Cipras. Tre di queste persone si sono dimessi e sono dati via. Di conseguenza, Varoufakis l'hanno preso a novembre, perché non erano pronti, non c'era nessun altro capace di fare questa contrattazione. E hanno messo Varoufakis. Il primo incontro di Varoufakis con Diceblum, che era il gennaio, Diceblum, non so se vi ricordate che l'hanno fatto vedere tutti i telegiornali che Varoufakis gli ha fatto, wow! Non so se ve lo ricordate questa cosa. Era perché Diceblum gli ha detto o voi firmate o noi vi schiacceremo. Questo lo dice Varoufakis oggi. Dopo un mese, l'ha ripetuto questo anche Soible. Tutto questo periodo non c'è nessun piano B, non c'è niente. Quando Soible e Diceblum gli dicono queste cose, e lui, con il suo gruppo, addirittura non c'erano neanche economisti greci, lui ha costruito un gruppo con economisti stranieri per andare a fare questa contrattazione. Cioè per capire quanto eravamo i preparati di affrontare questi mostri, questa gente che non rappresenta altro che un fascismo finanziario che c'è in Europa. Non eravamo pronti di affrontare questa gente. Quando Soible gli dice queste cose, e lui le riferisse a Cipras, lui gli dice di fare un piano B. E lui ha cominciato a fare B. Cosa è successo intanto? Sono usciti dalle banche greche 57 miliardi che sono dati all'estero. E 8 miliardi che abbiamo pagato al Fondo Monetario Internazionale. Per dire che siamo dei bravi ragazzi noi, che vogliamo una contrattazione onesta, che noi non siamo quelli che non pagano i loro debiti. Noi pagheremo i debiti, l'abbiamo ripetuto, ripetuto. E quello all'inizio che ha detto, che diceva Varoufakis, che ogni contrattazione ha dentro di sé la rottura, dopo 15 giorni si è perso, non si è più sentito. E arriviamo, lo faccio brevemente, perché la storia è molto lunga della Grecia, anche se sono pochi anni. arriviamo a queste contrattazioni, dove non c'è un documento. Voi dovete trovarmi un documento di questa contrattazione. Non c'è niente. Le mille pagine che dicono, che li hanno presentato a Cipros, io li voglio ancora oggi vedere. Non ci sono. Tutti dicono che blefava Sirisa e Cipros. No, blefavano gli altri, secondo me. Non blefava Cipros. Cipros è adatto con la sua idea, con il suo modo di pensare, da europeista a canito, perché io dico che quando questa ragione, che spero un giorno, sarà chiusa, Cipros sarà quello che chiuderà la porta e prenderà le chiavi, perché lui viene da una storia politica, dove non c'è né rottura, c'è solo contrattazione, c'è Maastricht, c'è europeismo. Allora, e arriviamo alla fine a questo referendum. Questo referendum non era altro che la proposta Juncker, l'unico documento che c'è. 21 punti della proposta Juncker. L'accettiamo o non l'accettiamo? Cipros perché l'ha messo questo? Non ci credeva al 62,3%, non ci ha mai creduto. E questo lo testimonia lo stesso Varoufakis. La sera che è tornato, dopo questa grande vittoria del popolo greco, è tornato al Maximum, dove c'è il, c'erano sei persone e c'era, dice, l'imbaraccio totale. Non erano contenti di questo. perché Cipros sperava sul referendum dove era lì per lì. Vi ricordate cosa è successo durante quel referendum? Tutta l'Europa contro di lui. Tutta. Dal nostro Renzi, a Hollande, a Schulz, a Soible, a Obama, a Putin ancora. tutti erano contro questo referendum. E ha preso questo grandioso 62%. E lui, il giorno dopo, prende il mandato di andare a fare la contrattazione. Questo è successo il 5 di luglio. Il 13 di luglio, metà della Grecia è adatta in una depressione totale. Lui ha firmato quella cosa che ci dice ancora oggi 17 ore di trattativa. Va bene. Ma mica lo paghiamo a ore. E' il nostro primo ministro. Cioè, è adatto a firmare quella cosa che nessuno riusciva a spiegare. Perché l'ha fatto? firma questa cosa eh? Con lo tuba, sì. Firma questa cosa e apre il Parlamento il mese di agosto mentre era chiuso e fa passare più di 300 emendamenti che sono arrivati direttamente dall'estero, dall'Eurozona. Vi dico solo questo. Il codice penale per cambiarlo in Italia mi pare che ci hanno messo circa 5 anni. Il codice civile in Grecia è arrivato dall'estero 900 pagine di lunedì mattina è stato votato è stato votato il 14 agosto sera dopo due giorni. Cioè, questi parlamentari cosa hanno votato? Cosa hanno visto? Non lo sanno neanche loro. Quello che è stato votato i 21 punti sono precedentemente all'inizio di agosto messi di nuovo anche loro a votazione. e qui la Costituzione è falsificata totalmente perché il referendum è quello che ha la forza al di sopra del Parlamento al di sopra del governo al di sopra di tutti. Questi emendamenti che ha firmato Cipras cominciano oggi li deve attuare. Lui dice non faremo elezioni subito. Questo l'ha dichiarato il 23 luglio. All'inizio di settembre lui dichiara io già il 13 di luglio avevo concordato di fare le elezioni. E con chi l'aveva concordato? Con gli amici dell'Eurozona. Infatti la prima dichiarazione di chi è stato? Della Merkel. le elezioni in Grecia fanno parte della soluzione dei problemi greci. E come mai prima tutti erano contro e adesso tutti erano a favore. Grande atto di democrazia ha detto il nostro Renzi. Cipras ha il coraggio di affrontare le elezioni ha detto Hollande. Tutta l'Europa ha favore di queste elezioni. elezioni che sono state fatte in 21 giorni. In questi giorni ha spiaciato tutti. Tutti. Si è polarizzata una situazione e ha fatto una grande vittoria Cipras e Sirisa. Perché ha fatto questa vittoria Cipras e Sirisa? E i greci cosa sono? 62% votano contro il terzo memorandum e dopo l'80% vota a favore del memorandum? Allora sono tutti da manicomio? No. Perché semplicemente è successo una polarizzazione che ha fatto paura in Grecia. Destra o non destra? I sondaggi tutti falsificati è stato dimostrato subito dopo le elezioni tutti falsificati davano un giorno avanti Sirisa un giorno avanti la nuova democrazia. In Grecia c'è un senso diciamo la gente è molto contro la destra e tenendo in considerazione che molti che votavano Sirisa sono ex elettori del PASOK PASOK è stato sempre a parte le boiate che ha fatto un partito molto contro la destra e la gente in questa polarizzazione non ha voluto che vincesse la destra una cosa è questa la seconda cosa è che gli altri partiti piccolini non sono riusciti di uscire fuori nell'arco di 20 giorni l'unità popolare il partito che io lo dico apertamente ho sostenuto e ho votato che partendo dall'Italia pensavo che poteva entrare nel Parlamento aci che pensavo che poteva prendere un voto di più è stata lateralmente schiacciata in questo periodo si è stata portata avanti come il partito della dracma e dall'altra parte con il partito dei sissionisti sono stati anche degli errori da parte loro perché non puoi dire io sono contro il memorandum e sostengo il governo come facevano loro cioè sono stati degli errori però non hanno avuto neanche il tempo di fare questo fronte non avevano una lira di fare una campagna di conseguenza per errori loro e per merito di questa polarizzazione non sono riusciti purtroppo entrare al Parlamento oggi da quello che so in Grecia è iniziato comunque in tutti i quartieri un nuovo corso per queste organizzazioni riescono per riuscire a affrontare la nuova situazione qual è la nuova situazione da adesso fino il 31 dicembre in Grecia devono mettere 127 cose che ci ha imposto l'Eurozona 127 cose tutti dettagli non c'è in questo terzo memorandum perché non esistono né memorandum di destra né di sinistra questo è un memorandum come tutti gli altri non c'è un ma un provvedimento per lo sviluppo uno di dire investiamo 100 milioni per fare le biciclette non esiste sono tutti dettagli allora qual è il problema che nasce oggi il problema che nasce è cosa è successo con Sirisa ha aperto un grande discorso in Europa e siamo tutti d'accordo ha aperto un discorso che tutti i giorni parlavamo tutti i giornali scrivevano da quelli di destra da quelli di sinistra ci ha dato la speranza e siamo d'accordo e tutto questo è merito di Sirisa però non bisogna fermarsi lì perché questo discorso è stato chiuso è rimasto il seme però il discorso è stato chiuso e perché è stato chiuso è stato chiuso perché in questa eurozona secondo me non c'è possibilità di cambiare Cipras ha trattato ha ritrattato ha ritrattato e 17 ore tutti i giorni era sull'aereo andava di qua ma questi non vogliono sapere mezzo non li interessa e non sono lì gli stati era sempre 18 contro 1 sempre quando votavano e io voglio chiedere un ministro che ha un documento un ministro di economia che ha un documento delle proposte della Grecia non c'è nessuno lì hanno deciso Schäuble Diceblum Lagarde e Draghi questi sono che hanno deciso gente che non è stata eletta da nessuno però sono loro e ti comandano allora per me che sono una persona che vivo fondamentalmente in Italia e mi sta al cuore questa storia e io non ero d'accordo anche il 25 gennaio quando sono andato a votare Sirisa però sono andato a votare Sirisa perché per me apriva questo discorso in Europa questo discorso che ha aperto Sirisa oggi accettiamo che è stato chiuso perché non si può fare niente perché siamo piccoli perché come mi dicono non c'era nessuna cosa doveva fare non c'era niente da fare solo questo non poteva fare altro che firmare io so una cosa che quando mi dicono che vengono tra sei mesi a bombardarmi gli aerei preparo la contraerea io so questo e loro non l'hanno fatto loro andavano a pagare i loro debiti e lasciavano uscire i soldi dalla Grecia allora avendo in Grecia questi sono leggevo l'altro giorno una cosa di Brancaccio che aveva fatto cosa serve in Grecia per stare per sopravvivere per un anno sono 22 miliardi di euro tra quello che importa e quello che esporta qui sono usciti dalla Grecia 57 più 8 65 miliardi di euro allora quando tu hai questi soldi puoi fare la contrattazione perché sei abbastanza coperto quando tu non è come dice Cipras l'ultima rata non l'abbiamo pagata al fondo monetario l'abbiamo pagata perché non avevamo soldi non perché abbiamo fatto resistenza e poi c'è un altro fatto io vi faccio una domanda a voi e rispondete tra voi se Cipras non firmava e andava alla rottura eravate d'accordo sì o no questo dico io oggi io penso che la gente non basta solo avere avere solo la contrattazione la sinistra sempre ha vinto quando è adatto alla rottura se non vai alla rottura non vinci mai e la Grecia è piccola però aveva migliaia e milioni di persone tutta in tutta Europa no al colpo di Stato è stato cliccato 300.000 volte il 13 di luglio e noi cosa facciamo oggi diciamo che bravo ragazzo che ha contrattato ma non è riuscito a parare come ha detto Varoufakis è così cioè i greci noi abbiamo scelto di non essere torturati da uno torturatore professionista come la destra ma da un bravo ragazzo questo succede oggi in Grecia e la battuta che gira in Grecia e quello purtroppo la situazione è devastante è la Grecia è nata la democrazia sono nati anche in Greci oggi i greci emigrano assieme anche la democrazia perché purtroppo democrazia in Grecia oggi non c'è noi abbiamo firmato che per 32 anni non abbiamo il diritto il diritto dentro il Parlamento di decidere per questioni economiche noi possiamo decidere dove mettere i cassonetti di rusco dove vanno i cani a fare pipì queste cose però per le questioni economiche noi non abbiamo nessun potere e purtroppo questa è l'Europa allora mi devono dire quelli che oggi sostengono che questa Europa riusciamo a cambiarla a trasformarla in che maniera prendendo un esempio quello esempio della Grecia per me che sono una persona che vive fondamentalmente qui anche in Grecia mi sta il cuore al cuore questa storia che oggi bisogna che apriamo almeno il dibattito almeno il dibattito bisogna aprire a vedere un altro chiamiamolo piano B chiamiamolo alternativa chiamiamolo come vogliamo di aprire una discussione e non lasciare questa discussione alle destre alle 5 stelle a Salvini alla destra inglese eccetera eccetera bisogna che lo apriamo noi è un dovere oggi se vogliamo andare avanti grazie grazie adesso passiamo la parola a Cristina Quintavalla che è stata come ricorderete la nostra candidata a presidenza della regione